Allora, la vita è un fatto di opportunità, di cogliere gli attimi, di sincronia anche. E' bella questa figura di questo microfono, come è nitida, questo apparecchietto telefono. Sì, ma io te lo devo dire una tragedia, tu sai che noi stiamo facendo dei video dedicati al CEO Zanzi per tentare di convincerlo giornalmente a prendere in considerazione, anche quello però, come diciamo, antipasto, di prendere una canzone del cantatore e metterla nella playlist che va all'Olimpico prima della partita. Allora, io tutti i giorni... E anche un posto di lavoro, per tutte e due. Beh, poi lì capito, vedi, a me smazza quanto è bravo questo. C'è un amico... Con chi si accompagna questo, si accompagna con questo. Venite, venite a Tricorio! A Tricorio mi rimane lontano, un ufficetto qua al centro. Ecco, ha detti pure le condizioni. Ha detti pure le condizioni. Perché quando uno lavora bene, se non la disco la mattina, rimane in ritardo. Ma tu manco tifi, perché quella squadra lì... Io sono sportivo. Ah, sei sportivo. Quindi una persona neutra, gli conviene pure, tutti i tifosi sono un po' obnubilati. Obnubilati. Qualcosa gli sfugge. Una persona più neutra, capito? Invece potrebbe fare il loro caso. Vabbè, ti sei venduto per una pagnotta. Allora, a parte... Non ho niente. A parte la doveria ancora questa pagnotta. Allora, io tutti i giorni, che manda Cristo, vado a prendere il caffè a Via Quintinosella. Perché il caffè è buono. È buono. Mi piace. È fatto bene. Sì. Sennonché, l'altro giorno, tre giorni fa, dopo che ho scritto la canzone... Al Ceo Zanzi. Al Ceo Zanzi. Un collega mi fa, andiamo a questo, che sta più vicino. Oggi non al Bar Zanzi. Andiamo da questo, che sta più vicino. Sì. Chi c'era a pranzo lì a Via Quintinosella al Bar? Al Ceo Zanzi. Al Ceo Zanzi. Porco. Giura, rimorto. Ma com'è. Io chiedavo il biglietto, e la nostra vita cambiava magicamente. Era fatta. Ma ho detto, la signora lì, la barman, mi ha detto, barwoman, come si diceva? Quella bella signora. La bella signora? Mi ha detto, ma è alto, ha gli occhi azzurri, un bello mone americano. Il Ceo è sempre alto. Il Ceo è bello. Se no non puoi fare il Ceo. Tu non mi hai visto un Ceo brutto. Tu fa Massimo Lusciere, le butta fuori. Tu guardi i dirigenti. Sì. Tuttano tutti dal metro e ottanta in su. È certo. Guarda che mi niente strada, vieni uno con il gessato, con il vestito blu alto. E' un Ceo comando. Dall'altezza, può comandare tutti gli altri che stanno bassi. Fin da piccolo emergeva sugli altri, come una bacchetta, e quindi c'è la personalità dirigente. Niente, dimmi da tua, perché io non so più che cazzo sbatta la testa. Io penso che adesso questa gente si debba mettere una mano sulla coscienza. Eh sì. Cioè, guarda, questi sono stati veramente sfigati. Gli vengo un conto. Damogli un conto. Damo, damo. Damo. Due posticini di lavoro, un ufficetto qua vicino alla stazione Piazza della Repubblica. Così qua. Così, lui arriva con la metro, lui arriva col treno. Eh, è a posto. E' amofatto. E' amofatto. Non vogliamo tanto, eh. Ceo, se ti arriva questo... No, perché questo, magari, questi chissiamo che vogliono... Ah, no, 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 io guarda... Guarda, duemila euro al mese a tempo indeterminato. E basta, basta. Ah, non è tanto. Che per bilanciare una squadra fa ride, proprio. E' niente. E' niente. Ci faccio pure delle vacanze invernali con duemila euro. Eh, capito. Duemila euro al mese, contratto a tempo indeterminato. Ah, basta, basta. E che ti amo io? Eh, capirai, con tutti i stati buttati. Buttati. No, buttati. Che investite bene, però purtroppo dovete ungere... No, non è scena. Cristo, fa tutto questo lavoro. Ah, c'ha ragione. No, è sto zitto. Oh, Cristo. Un saluto. Non tenga conto, signor Ceo. Grazie. Grazie a quello che farà per noi. Arrivederci Ceo. Arrivederci Ceo. Grazie a tutti.